La capolista tutto cuoio fa sul serio supera anche l'esame del Brilliperi di Montevarchi infliggendo ai Rosso Blu la prima sconfitta ufficiale tra campionato e Coppa Italia. Non sbandano gli uomini di Masini neppure sotto di due reti sorpresi e annichiliti dalla partenza a tutto gas degli Aquilotti, ma si riorganizzano, pareggiano in tre minuti a cavallo della mezz'ora e in avvio di secondo tempo sorpassano con Di Paola. Un premio molto generoso perché dal quarto d'ora del secondo tempo gli Aquilotti di Venturi ritrovano smalto, sfiorano in almeno 5-6 occasioni il pareggio e fanno diventare, non a caso, eroe di giornata il portiere dei conciari Lombardi. Si comincia davanti a un ottimo pubblico, oltre 700 gli spettatori in una giornata di sole pieno e calda. Montevarchi all'attacco, subito una traversa di Masini al 14esimo e il preambolo all'avvantaggio. Lo firma con un tocco d'esterno delizioso Vieri-Regoli dopo azione insistita del 2001 a Matucci, sempre più nel vivo del gioco. In palese imbarazzo, Correa e Soci subiscono il 2-0 al 25esimo. Stavolta la conclusione ravvicinata di Bobo Regoli è respinta dall'estremo nero-verde, che nulla può, tuttavia, sul diagonale vincente di Adama Di Arrasuba. A questo punto emerge il carattere del tutto cuoio, che accorcia su azione d'angolo al minuto 32 le distanze, batte l'argentino di Rosario Lucas Correa e Guidelli, di prima intenzione, trova di testa la rete che riapre la sfida. Tre minuti e il giovane Bianconi, in mischia, con la difesa del Montevarchi, incapace in questo caso di allontanare, trova il 2-2. Smarrite le sue certezze, l'Aquila rischia al 41esimo sul legno colpito da Fermo da Guidelli. In avvio di ripresa, su un disimpegno errato del centrocampo Montevarchino, il gol di potenza del 3-2 è di Francesco Di Paola. A questo punto Venturi suona la carica e i rosso-blu reagiscono costruendo una lunga lista di opportunità clamorose. Al quarto d'ora un tiro cross di Regoli e per poco Bianconi non fa autorete. Va giù al diciottesimo e su sì, ma si prosegue Canci di Carrara, dice che è tutto regolare. Un minuto e Masini si mangia un gol che sembrava fatto, sotto misura, esaltando i riflessi di Lombardi. Al ventesimo Biagi salta tutti, compreso il portiere, ma c'è il piede di un difensore per l'angolo. Venticinquesimo ancora Biagi da fuori e il miracolo di Lombardi. A dire no alla Montevarchi che al minuto 33 chiede un fallo da rigore su Donatini. Davvero incredibile anche l'azione del 43esimo. Una doppia rovesciata il salvataggio sotto misura di Lombardi e di quelli che valgono il risultato. Nel finale altre opportunità, 44esimo Fofi e Lombardi neutralizza. Infine l'ultimo guizzo dei padroni di casa, colpo di testa di Adami che finisce alto.